La prima milenaria dell'era Covid è una milenaria ovviamente diversa che ha molti meno contenuti rispetto agli anni precedenti ma comunque è un programma molto interessante e si è concentrato quest'anno sui temi di salute quindi la prima principale è coltiviamo la salute sarà una milenaria dove troveremo sicuramente spazi aspettivi la parte campionati ha molto dettaglio alimentare in termini proprio anche di contenuti e ci siamo focalizzati su questo per dare ai nostri visitatori la possibilità di confrontarsi con il mondo alimentare per capire quali possono essere anche attraverso il cibo sistemi di autodifesa anche dal punto di vista dell'immunità Quindi è una milenaria diversa ma non minore Assolutamente no diversa perché siamo stati obbligati e questo ci ha dettato un po' le linee guida tutta la parte è legata agli grandi assembramenti ciò che era la milenaria prima quindi i grandi eventi la parte indicata alla zootecnia il Luna Park la parte indicata agli street food abbiamo dovuto per quest'anno abbandonare però ci siamo concentrati sui temi interessanti per il nostro pubblico torno a dire la parte agroalimentare è quella che fa la forza non dimentichiamoci che questa è la fiera nazionale delle produtture perfetto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti